Un presidio che dura da una settimana, giorno e notte per dire no all'elettrodotto. Perché? Ma più precisamente non è tanto per dire no all'elettrodotto, si attende un'ordinanza di sospensione dei lavori. L'ordinanza di sospensione dei lavori è stata richiesta dal comune di Lanciano, in quanto gli uffici tecnici di quel comune hanno rilevato a difformità della costruzione dell'elettrodotto rispetto a quanto autorizzato. Pertanto è stata chiesta questa ordinanza di sospensione. L'ordinanza di sospensione, per giusta causa ai sensi dell'articolo 28 del DPR 380, è stata richiesta alla Presidenza della Giunta regionale e al Ministero delle Infrastrutture, i quali sono quelli deputati a emettere questa ordinanza. Ordinanza che purtroppo non arriva. Quindi continuerete con questo presidio, ma vi attendete delle risposte anche dalla politica? È ovvio che c'entra anche la politica, voglio dire, D'Alfonso ha sempre detto e si è sempre schierato dalla parte delle persone che erano contro questa infrastruttura, però ha sempre detto che non aveva armi in mano per poter contrastare quest'opera. Adesso le armi, tra virgolette, gli sono state date, voglio dire, lo prevede un DPR e gli sono state date attraverso questa richiesta di sospensione. Quindi ci aspettiamo che lui, in virtù di quello che ha sempre asserito, intervenga. Però non capiamo come mai a distanza di più di un mese questa ordinanza non arriva e nel frattempo l'opera va avanti e hanno completato anche il pilone che era stato dichiarato in abuso a Lanciano.